E tu conosci blocchi per raggiungere la minor velocità su Minecraft? Beh, se la risposta fosse no, allora iscriviti e scopriamolo insieme. Da come avrai capito, nessun tipo di blocco è in grado di farci andare lenti quanto la lava. Anche se nonostante, raggiungiamo una velocità minimissima, non è ancora la massima. Infatti, utilizzando uno scudo, una pozione che riduce del 90% la velocità, e tramite questa specie di coppo di blocchi, si raggiunge una velocità che praticamente è nulla. Ma prima di scoprirlo, vi lascio 3 secondi per lasciare like e iscrivervi al canale. Dai che è gratis. 3, 2, 1... E diamoci dentro con questa specie di velocità nulla. Allora, già così si va troppo, troppo lenti, signori. Ma fermi, appena si raggiungerà questa cosa e ci si shifterà, io vi assicuro, ragazzi, che... Cioè, guardate, è ancora nella minima velocità. E in tutto questo, ragazzi, io sto correndo. E vedete che anche senza pozione si va comunque ultra lenti.